La giornata è importante perché è una festa molto sentita dalla città che lega questo legame storico che c'è fra il mare, il porto e la città stessa. Ma è un modo anche per vivere tutto quello che il mare rappresenta attraverso tutto il mondo della marineria, della pesca ma quello che ci sta dietro alla nautica, insomma tutto quello che è il mondo plurale del mare e del porto. Ma è anche un'occasione per ricordare i caduti, coloro che non ci sono più, che per spirito di servizio, per il lavoro che svolgevano sono caduti in mare. Una comunità non li dimentica, li porta sempre nel cuore. Ma è anche un'occasione per guardare alle sfide del futuro, per guardare avanti. E questo è un po' il significato della festa del mare e il significato delle tante presenze che ci sono state in questa celebrazione ufficiale.